Sono Gianluca Del Bono, sono docente di fondamenti a scuola TAO. Devo dire che la medicina cinese è stato un incontro straordinario per la mia vita e per la mia professione. Nasco come counselor, nasco come operatore craniosacrale e la medicina cinese mi ha aperto la comprensione degli aspetti energetici, fisici ed emozionali e quindi come dire mi si è aperto veramente un mondo che ora riesco a mettere e integrare nel mio lavoro. È stata una grandissima fortuna per me, credo per i miei clienti che hanno a disposizione uno strumento molto più accurato e molto più preciso per fare il loro percorso di crescita e per il mio percorso di crescita professionale è uno strumento eccezionale perché adesso sono docente, sono arrivato quindi anche a scuola TAO grazie a scuola TAO ad allargare i miei orizzonti e a poter fare una cosa che sinceramente mi appassiona e mi diverte molto che è essere docente, insegnare e nello stesso tempo imparare perché mi rendo conto che essere sempre sotto esame mi porta ad aprire a nuove conoscenze e sempre a una ricchezza maggiore di quello che sto imparando e conoscendo. Al prossimo episodio Grazie a tutti.